Buonasera, abbiamo tenuto questo Consiglio europeo nel contesto schizzato dal Presidente e dalla Presidente von der Leyen, cioè non di una crisi ma di una guerra e della scelta fatta dal Presidente Putin di lanciare una serie di operazioni militari massicce e non mirate come ha detto lui qualche ora fa sul Donbass, ma operazioni militari massicce con la morte di diverse centinaia di civili ucraine, come è stato confermato poco tempo fa dal Presidente Zagash. Dobbiamo trarne tutte le conclusioni. La scelta del Presidente Putin è quella di riportarci a delle logiche di confrontazione e di impero e poi di distruggere tutti i principi del diritto internazionale, della carta internazionale firmata dalla Russia. Di fronte a questa scelta abbiamo deciso innanzitutto di anticipare e di rimanere uniti, come abbiamo fatto fin dall'inizio. La nostra unità è stata concepita innanzitutto per discutere e dare tutte le opportunità alla diplomazia senza ingenuità, senza concessioni, con un dialogo esigente che abbiamo condotto nel contesto del formato di Normandia con la Germania e con i contatti che diversi colleghi europei e le nostre istituzioni hanno avuto nelle ultime settimane. La scelta deliberata del Presidente russo è la scelta deliberata del Presidente russo di non cogliere questa occasione. L'unità e la preparazione che hanno presidato i lavori condotti dalla Commissione, ringrazio la signora Presidente e il suo team, che hanno fatto sì che nel mese scorso, nelle ultime settimane, l'Unione Europea ha lavorato strettamente con tutti i suoi alleati britannici, canadesi e americani per concepire il set di sanzioni e stasera c'è stata l'approvazione politica da parte dei capi di Stato e di Governo. Tutto questo è stato preparato e concepito, quindi stasera abbiamo deciso, non ritorno sull'elenco che ha illustrato il Presidente e la Presidente, è chiaro che è una prima risposta. L'Unione Europea ha deciso quindi insieme di infliggere un costo severo a Mosca su persone e settori e verranno completate da misure governative e io stamattina ho lanciato diversi lavori su beni personali, per esempio una serie di personalità oltre a queste misure.